Aumenta il numero dei ricoverati in malattie infettive all'ospedale Sant'Elia e negli ospedali che hanno i reparti Covid in provincia e dunque l'ospedale di Gela, ma intanto diminuisce il numero dei ricoverati. Infatti sono in tutto 192 i pazienti positivi da Covid riscontrati nelle ultime 24 ore, dai quali 58 a Gela, 49 a Caltanissetta, 25 a Niscemi e gli altri distribuiti nei paesi della provincia. Ma rispetto ai ricoveri, anche se la maggior parte dei ricoverati a quanto pare entrano nei nosocomi per altre patologie e poi si scoprono positivi, quindi i ricoverati non sono tutti per patologia dettata da Covid. Sono 604 i positivi in quarantena domiciliare a Caltanissetta, 8 i ricoverati al reparto Covid di malattie infettive e poi invece per la città del Golfo, ovvero Gela, sono 728 i positivi in quarantena domiciliare, 10 i ricoverati. In tutto al momento i ricoverati sono 47, 2774 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia.